42 Lega Nerd Ciao Lega Nerd, mi vedete? Mi vedete? Sono qui dietro Flash Si lo so, in questo momento io sto urlando interiormente penso anche voi siamo nel basement di Flash ecco Flash una bella replica siamo a Londra al Junket di Justice League che uscirà in Italia a metà novembre domani incontreremo tutto il cast Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot Henry Cavill forse chi lo sa, mi hanno detto di sì spero di sì ovvero Super, Batman, Wonder Woman Aquaman Flash non ci sarà però c'è il suo stunt diciamo il set questo è meraviglioso ci saranno le interviste appunto domani proprio qui ma io oggi vi do un'anticipazione di cosa appunto vedremo poi nelle interviste i dettagli sono eccezionali eccezionali ci sono anche i Twinkies il cartone della pizza i libri i vestiti ci sono anche le giacchette di Flash io so che in questo momento Lega Nerd sta non lo so morendo e io anche qui non è finita però perché ci aspetta almeno un altro set Ciao Lega Nerd ecco dopo il basement di Flash siamo nella Bat Caverna siamo nella Bat Caverna c'è anche una replica di Batman anche se vi posso assicurare che Ben Affleck è molto più grosso di questa replica io anche qui sto urlando interiormente ci sono là gli schermi ci sono le armi di Batman vorrei poter camminare ma mi stanno dicendo che non posso perché ci sarà tutto il mistero da svelare domani alle interviste quindi aspettiamo ancora di vedere domani questi supereroi questa Justice League io il film lo vedo tra poco quindi vi sapremo dire Facciamolo D'accordo Ciao Lega Nerd siamo nel basement di Flash lo so il mio nerd sta urlando in questo momento qualcosa di pazzesco siamo a Londra per il junket di Justice League e per l'occasione e come set delle interviste Warner Bros ha deciso di portare qui a Londra gli oggetti di scena del film e di ricreare gli ambienti propri dei protagonisti adesso vi faccio vedere un po' tutti i set che abbiamo visto quello di Wonder Woman quello di Aquaman quello di Batman ovviamente questo è uno dei junket della vita abbiamo incontrato la Justice League quasi al completo mancava solo Ezra Miller che è attualmente impegnato a girare il secondo film della saga di Animali Fantastici però gli altri invece li abbiamo incontrati tutti Aquaman Momoa gli abbiamo detto guarda Aquaman un personaggio un po' sfigato però tu sei riuscito a renderlo veramente figo e lui ma come no Aquaman comunque governa l'Aquaman io sì sì vabbè ma tu sei più figo Momoa dai diciamolo anche se aveva questo cappello un po' strano un po' gitano un po' brigante però insomma tanta 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 roba Momoa tanta roba anche Rick Avil che è qui a fare le interviste non si potevano fare domande specifiche sul suo personaggio perché poi saprete vedrete non posso dire niente perché sennò mi fulminano con Flash ma insomma sì abbiamo fatto questa bella chiacchierata con la Justice League che per il momento possiamo dire che segue un nuovo corso un nuovo corso perché c'è molta più ironia c'è molta più squadra abbiamo visto tutti questi personaggi separati finalmente li vediamo proprio insieme a collaborare c'è quasi una sessione di team building perché tutti quanti all'inizio non si fidano l'uno dell'altro poi invece insomma imparano a fidarsi a collaborare c'è tanta ironia dicevamo un po' sulla scia degli Avengers però diciamo i personaggi ribasano una grande gravitas gravitas scusa grande parola e quindi diciamo riescono a a creare insomma un equilibrio nuovo per la DC Comics questo è dovuto sicuramente all'apporto di di Joss Whedon che è subentrato al film quando Zack Snyder ha avuto dei problemi personali e quindi non poteva finirlo quindi diciamo mantiene l'anima più dark più cupa più emotivamente anche pesante dei personaggi proprio di Zack Snyder e però invece c'è tanta leggerezza c'è tanta leggerezza che è data soprattutto dal personaggio di Flash che è Ezra Miller che è la linea comica della Justice League come direbbero Boris è la linea comica ma addirittura anche Batman ride a un certo punto c'è un momento in cui fa una faccina che diventerà un meme fantastico poi c'è un personaggio che da una capocciata in testa ad un altro personaggio uno non se l'aspetta è una cosa abbastanza rivoluzionaria perché è giusto che sia così che ci sia questa capocciata anche a una persona che uno magari non si aspetta poi vedrete quando capirete quando vedrete il film insomma una Justice League che promette bene se si riuscirà a trovare questo equilibrio tra l'umorismo e la forza dei personaggi che sulla carta sono molto più belli più complessi di quelli della Marvel almeno questo a mio parere voglio dire Batman Superman Wonder Woman ma di che stiamo parlando altro che Iron Man non mi uccidete ma secondo me è così e quindi molto bene anche Cyborg molto bene anche Cyborg che magari era il personaggio diciamo meno probabile insomma meno attraente invece l'attore che lo interpreta è molto bravo è stato anche il più simpatico durante queste interviste noi qui a Londra appunto abbiamo visto questi set abbiamo visto questi set meravigliosi di cui vi sto mandando immagini così a raffica abbiamo visto la Batcaverna di Batman il basement di Flash il laboratorio di Cyborg quello di Wonder Woman insomma Henry Cavill era qui presente non possiamo dire molto ma sì c'era anche lui quindi fate un 2 più 2 e capite perché era qui insomma questa Justice League segna un nuovo corso per l'universo di sì al cinema speriamo che si continui così alla grande la cosa interessante è che ormai il personaggio di punta è proprio Wonder Woman è proprio Wonder Woman l'unica donna della squadra che in realtà è anche il vero leader poi l'altra cosa interessante è che si mette in discussione Batman Batman è l'unico senza superpoteri l'unico diciamo che appunto non ha un potere speciale però lui crede nella giustizia e quindi è anche disposto a farsi da parte disposto a farsi da parte e soprattutto un'ora decadente un po' come il Logan che abbiamo visto di Wolverine di Hugh Jackman un supereroe che diciamo sa di aver dato tanto e forse di non poter continuare a fare quello che fa vediamo che insomma è il Batman più colpito più vessato che abbiamo mai visto al cinema l'ho chiesto anche a Ben Affleck questa cosa ha proprio i limiti su tutto il corpo la sua umanità è tutta sul suo corpo ed è bello questo perché il tramonto dell'eroe che si interroga e pensa al futuro anche un futuro senza di lui è molto attuale molto profonda molto interessante come cosa e quindi è lui che sta lasciando Batman lascia un'eredità ed è come se passasse il testimone a Wonder Woman alle donne a questa forza femminile diciamo che è in grado di fronteggiare tutto cercando di salvare tutti e non di azzerare il mondo parlo così perché non voglio fare spoiler quindi insomma Justice League è al cinema dal 17 novembre benissimo così un passo che andava fatto ed era necessario vediamo che cosa ne pensate anche voi quando uscirà in sala da Londra a tutto al prossimo Junket oh pazzesco è il pazzegnale è il tuo oh scusa è il tuo segnale vuol dire che dobbiamo andare sì è quello che vuol dire troppo feco ok è il tuo segnale